Ciao a tutti amici di Evriai, qui è il vostro felice con la nostra rubrica Happy Gamer e oggi siamo qui con questa luce spenta e diciamo questa luce soffusa rossa perché stiamo per iniziare un'avventura molto molto particolare su un gioco davvero davvero particolare anche questo forse l'avrete già riconosciuto dal menu principale siamo su Daylight, il nuovissimo gioco horror in prima persona su Unreal Engine 4 uscito da pochissimo, 29 aprile e siamo pronti ad avventurarci in questa particolarissima avventura non mi sono spoilerato assolutamente nulla, ho evitato tutti i video dei miei colleghi tutti i video dei canali che seguo quindi non so assolutamente nulla di questo gioco, ripeto nulla ho giocato ad Outlast, mi è piaciuto tantissimo spero di avere un riscontro positivo anche da questo gioco perciò che ne dite, clicchiamo, clicchiamo so che me ne pentirò assolutamente me ne pentirò ma lo faremo insieme pronti? nuova storia su caricamento su scusate ma come sempre sono straraffreddato ma non posso rinviare eternamente i video a seconda del mio stato di salute perciò parecchio lungo questo caricamento non avevo ancora nemmeno proprio cliccato su nuova partita probabilmente sta caricando forse l'intera zona nella quale si svolgerà magari la prima mezz'ora o ora di gioco può essere aspettiamo aspettiamo e confidiamo questo è davvero lungo ok e mi spiace sto usando il gamepad quindi i tuoi consigli non mi sono trova le reminescenze il telefono ti aiuterà a trovare la strada basta salve una mano che schifo i ragni noi quindi siamo questa Sara Sara ce la faremo ok quindi siamo in questo posto sconosciuto devi vedere un attimo i comandi così muoviamo il personaggio così la visuale ok abbiamo una sorta di gps che possiamo sfruttare ok contenendo premuto la levetta possiamo usa il detenuto 52 sembra avere visioni di gente e ombra i medici continuano a tentare terapie tradizionali ma credo che dovremmo cominciare a prendere in considerazione i trattamenti più aggressivi wow deve creare parecchi problemi interessante vorrei visitare anche io un ospedale con queste fantasiose queste fantasiose decorazioni sulle sedie a rotelle ok devo tenere proprio premuto per muoverlo non posso va bene non sembra esserci nulla di particolare cammina in un modo un po' strano vedete ha tipo a scatti magari può sembrare lag ma in realtà è proprio ciondola al personaggio è una foto di qui a Schubert penso sia il classico ospedale psichiatrico credo usa delle barrette luminose per cercare più a fondo trovate una barretta luminosa prendile hai troppe barrette luminose detto che si attivano con uno ok in questo modo perfetto qui saranno la nostra fonte diciamo di di luce per trovare reminescenze la paziente di dieci mesi di età è stata ricondotta qui dai genitori affidatari a seguito di inspiegabili incidenti accaduti poco dopo la sua dimissione dall'ospedale oh mio dio sono queste le sorte di rune che hanno intaccato il nostro braccio questo strano a polvere che è e la c'è nessuno non so che di eternal darkness per gamecube questa cosa ci sono nata come villaggio di pescatori in new kipling fiorino una piccola florida città piena di laboresi cittadini la città le prese con sovra popolazione risorse limitate e cercò nuovi modi per sostenere la popolazione ok non si rompono i vetri vandali ok ok si oddio salve Cassetti indemoniati Qua c'è qualcosa Ehi, ok Temo che con l'imminente chiusura dell'ospedale non saremmo in grado di trovarle una casa È triste vedere che una vita portata in questo modo con tale violenza cade ora sotto la tutela dello Stato Finirà indubbiamente a passare da un istituto all'altro È purtroppo una cosa che capita a molti Ah, raffreddore Oh mio Dio Sì Permesso Un po' difficile orientarsi qui Oh cazzo Vaffanculo Maledette cose che non possono stare al loro posto No, no, tranquillo, non c'è nessuno, guarda, tranquillamente Proseguiamo Peguiamo con i materassi che si alzano Senza nessun motivo È una porta Ma innanzitutto perché siamo qua Ok È un bagno questo Perfetto Ci piacciono i bagni sono cose tranquille senza nulla di strano I bagni sono nostri amici Ci salvano nei momenti di malessere intestinale I materassi I termosifoni non si muovono nei bagni Ok Ok Va tutto bene In bagno Noi amiamo i bagni I bagni sono nostri amici Le porte si aprono Ok Qua ci sono comunemente chiamati I cessi Che non sono io Ma Sono dei sanitari Come cavolo corre questa Vabbè Ok Qua qualcuno si è divertito a Dipingere i muri di rune Ok Posso interagire in qualche modo No Quindi andiamo direttamente a questo pulsante No Pulsante a un telefono Perché qua c'è indubbiamente Devo forse attivare Devo attivare questo Per interagire in qualche modo C'è segnato qualcosa Possibile che in questa stanza ragazzi non ci sia Nulla I miei passi si vedono per terra Ok Non c'è nulla Non devo interagire con nulla Ma per carità eh No perché l'hai buttato Sei una persona becera Accoglilo Non si può Va bene Quindi Quindi insomma Non dovevo Non devo venire qua Insomma non c'è Qua non c'è Forse qua C'è un cerchio particolare Nulla Oh beh Se non c'è nulla Ce ne andiamo ragazzi Che dite Andiamo Non ho controllato se magari c'era qualcosa di particolare qui Qua Il paziente 27C manifesta un'ossessione per i labirinti La sua compulsione l'ha indotto a tracciare labirinti su ogni superficie della sua cella Esaurito lo spazio il paziente è passato a tracciare un elaborato labirinto sulla propria pelle Ricoprendono interamente il petto Parte della schiena Avambracci Braccia Cosce E persino Parte delle natiche dei genitai Il paziente è stato contenuto con una camicia di forza E confinato in isolamento Wow E qui non c'è nulla Qua ci siamo persi porte No Sembra strano comunque Uh qua Ah ok Siamo semplicemente Siamo semplicemente fatto il giro Però ragazzi Io continuo a vedere No tranquilli Devi star tranquilla Ok Sembra strano che qua non Oh Che cavolo C'è Tibbers Signor Tibbers Ok I Ok Cazzin va bene Non mi spaventano Già finita Ok Un'infezione Oddio Sì Signor Tibbers Qua è chiuso Oh mio dio Oddio Siamo tornati E' inquietantissimo Ok Basta Abbiamo Analizzato tutto ciò che si poteva analizzare qui Ok Torniamo indietro No No Come corre questa Qua è chiuso Se sono No Devi stare tranquilla Hai capito Signor Tibbers Mi sta ostruendo la visuale Qua non siamo ancora andati Oh cazzo E' quello Che diavolo sei Sì Ok Ok Questo gioco è E' il demonio E' più inquietante di Outlast Giuro La chiesa puritana di New Kipling Dichiarò che un nero oscuro aveva avvolto la città Facendo fuggire alcuni abitanti che temevano per la propria vita Per mantenere la pace la chiesa locale e gli anziani del villaggio promulgarono leggi che obbligavano a frequentare la chiesa Comeracci Ok Tranquillo Non c'è bisogno che aggi... Oh Che sti cassetti pazzerelli Oh Tranqu... Devi stare calmo Hai capito? Mi prende un coccolone e poi non posso fare più video Ma perché? Non potevo fare una serie su Super Mario Ce la puoi fare Scarafaggi su Spariti Stannotte ho visto qualcuno nella sala della caldaia Quel bastardo mi ha fatto fare un salto così Purtroppo è corso via prima che potessi vederlo bene Nessuno tranne me e Adam dovrebbe avere accesso a quella stanza Perciò è meglio che non si tratti di un inserviente in cerca di un posticino in cui appartarsi con un infermiero Assicurati che la gente faccia il suo lavoro E non venga a ciondolare nella mia sala caldai Sono riapparsi gli scarafaggi Gli pesta gli scarafaggi Non si sa Ok Presumo che di lì si scenda barra si sale Quindi Ne diamo un'occhiata se qua c'è qualcosa Ok Non c'è bisogno che lo chiedi in ogni stanza Devi star tranquilla Oddio sembrano tutte uguali ragazzi queste stanze Non riesco Che cavolo Che cavolo Oh mio dio Non ti vattene di qua per piacere Non farti domande Mi hanno trovato una barretta luminosa Appicciala Ah ma c'hai tibersi in mano Disponibile quando hai il sigillo Ok qua c'è qualcosa Che cavolo Che cavolo Signor tibers ha distrutto tutto Salvataggio Beh esserne contente Ha cambiata la musica Tutti i dipendenti ieri sera verso le 19 si è verificato un'interruzione di corrente in questa sezione dell'edificio A cosa di una sfortunata coincidenza non siamo stati in grado di trasferire un paziente in gravi condizioni al reparto delle emergenze Ed egli è morto durante il trasporto nel corridoio tra le porte di sicurezza degli archivi Per evitare questo tipo di tragedie in futuro l'ospedale ha deciso che anche il personale non adibito alla manutenzione deve essere al corrente del fatto che le porte di sicurezza non sono operative senza la corrente elettrica Dovete riavviare l'interruttore per usare la porta Adesso so se è un indizio di cosa dovremmo fare per aprire probabilmente qualche porta Sembra non funzionare ancora Ok questo sarà il magico interruttore Cioè che apre la porta forse Quanta roba da leggere Non è facile aggiungere l'esterno Va bene Bel casino che c'è qua Direi che di qui non si passa Oh cazzo Che cosa sei Va bene va bene Troppe note raga Oh my god Questo è un tizio che corre Ok l'unione engine 4 non permette di spostare queste casse Di messaggio hanno lasciato I cittadini kipling accuse crimini una sedicenne messo di vivere confessato crimine contadato all'impic male ospedà aperto per tratto diffusione del male Dov'è quello schifoso che girava qui intorno? Di qua non puoi passare non ti chini? Non hai abilità di chinaggio? No Che cavolo Sei la sedicenne accusata Sei brutta Sparito Per rampicarti su alcuni oggetti Beh ma se volessi farlo con il gamepad Vabbè adesso andiamo un attimo se c'è qualcosa qui intorno Un altro foglietto Pazienti hanno preso le medicine Nel mio primo giorno Ok Quindi pagino che dovremo sfruttare Qualcosa salendo qui Un che tasto Ok con B No Non è la capacità di Può essere spostato Ok ok Va bene va bene ho capito Sali Sali Ok Sarà carina sto tizio Cerco di consolarmi con qualcosa ragazzi Tengo d'occhio un attimo il timer Abbiamo ancora un bel 5 minuti Giù Usa Ok Sì Non è che mi consoli molto Anche se è meglio dell'oscurità Presumo dovremmo passare di qua Daie Ok Parkour Ma il parkour di Outlast che c'è solo all'inizio Dovete arrampicarvi Ok Tenti a non cadere Ok Mentre qua è tutto predisposto Al nostro passaggio Non c'è una nota Ma niente Almeno sei agile Uh barrette luminose A me Attiva l'alpe sfizio Ah siamo tornati qua Quindi possiamo Ok C'è bisogno che fai sto cigoglio infernale Tranquilla Giustamente Sei chiusa da sola Minirò un po' la luminosità Ok Oddio sti scatoloni Che non ti fanno camminare Assurdo Ah questo è forse Il pezzo Il foglio che vediamo Dall'alto Una foto Ah come era forse Prima l'ospedale Può essere Probabile Ok Davvero Non me ne ero accorto Che il mio sangue Non era acqua Cassetti Ormai ho il terrore Dei cassetti Ragazzi Ah Ok I cassetti sono Il mio peggior nemico Di sto gioco Vendiamo Uh Un'altra stanza Un'altra stanza Ambigua Niente da scautare Come la stessa No non è la stessa Guardando la mappa Assolutamente Ok Passate sette anni di età Manifesta paura Dei mostri Nella sua stanza Un'infermiera Di turno di notte Ha cercato di consolarla Spiegandole che era Frutto della sua immaginazione Vado a dire I miei cassetti Che si aprono E si chiusono Che cavolo È Da che parte È arrivato Non so da che parte andare Ragazzi Sono Sono troppe Antenote Prendila Credo di aver visto Quello di cui parlavi L'altro giorno Mi stava guardando È svanito E qui cosa c'è Oh 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 Devi star tranquillo Devi star tranquillo Devi star tranquillo Che qua è tutto chiuso Scale Scale Ok Presumo che le scale Saranno La nostra prossima via Su o giù Eh Boh Andiamo giù Parlava di una caldaia Di solito Le caldaie sono giù La domanda è Qua Ok Quanto giù Direi fino qua Bengala Accesi Ti proteggeranno Da cosa Perché dovrei avere bisogno Di essere protetto Non mi Piace Ok Siamo già bloccati Oh 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 Devi star tranquillo Oh mio dio Oh Oh vai via Oh 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 Si 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 Il timer Il timer Sì, sì, sì Ragazzi, grazie per averci seguito Ci vediamo alla prossima Ok, no, vabbè Allora Ok, non so se C'è un salvataggio qui che Oh mio Dio, ragazzi Mi è venuto un colpo Mi è venuto un colpo Eeeh, volevo magari un autosalvataggio Ma c'è Cosa siamo venuti a fare esattamente Qua sotto Nulla Va bene Torniamo su Andiamo al piano di sopra Ma c'è un modo tipo per auto Se faccio così Perdo i progressi, ok E aspettiamo di vedere il primo salvataggio Ok, chiudiamo Se il mio cuore regge Mio Dio Cioè, ma vi rendete che c'è gente Che vuole giocare a questo gioco con l'Oculus Rift Ma siete Siete malati dentro Paura che tutto qua si muova Spazio, non mi interessa Voglio salvare e andarmene Santo Dio Dai, non ti imbellinare Ti prego Un salvataggio Non chiedo molto Ok, ok Qua è tutto chiuso No, 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 no Schiaccia qualcosa Ok, qualunque Cosa ho fatto Mi ha salvato la vita Basta, ragazzi Devo smettere Oh mio Dio Che piano devo andare Ti prego, salva Oh Non c'è niente Perché? Perché sono qua se non c'è niente? Se il Bengala finisce Eeeh Cosa lì Mortissia mi Mi corre addosso Cazzo Oh mio Dio Oddio Aperta Oh mio Dio Vorrei salvare Se è possibile Aspetta, non posso fare Episodi di 90 minuti Anche perché Oh Pure il rumore delle porte Oh, sti cosi No, no Non cominciare No, no Oh, non c'è nessuno Non c'è nessuno Oh, cazzo Dai, muoviti Che mi sto cagando addosso Donna, se trovo quello che ha fatto sto gioco Giuro che lo prendo a schiaffi Gente Gente senza principi Dimmi che qua sto facendo il giro perché Oh, 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 oh Oh No Oh, vattene Vattene via Via Madonna No, 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 no Oh, cazzo No Mi interessa cosa c'è scritto Voglio Voglio andarmene Voglio andarmene Ah, qua c'è qualcosa Dai cassetti Accendi qualcosa, please Facendo qualcosa Nella sala della caldaia Eh, no, eh Io non ci vado Magari si è sbloccato Ecco, lo sapevo io Dobbiamo trovare altre cose indemoniate Mannaggia a voi Allora ragazzi Non trovo un salvataggio Perciò Per questo primo episodio Ci fermiamo qui, ok Continuo esattamente da qua C'è la giro proprio adesso Così non perdiamo il continuum Faccio magari una pausa di mezz'ora Mi bevo un tè Faccio un giro per casa Coccolo il cane Fatemi sapere nei commenti Se questa serie vi piace Io vi odio Odio questo gioco Iscrivetevi al canale Ci vediamo alla prossima puntata Ciao Ciao